e finalmente dopo una lunga attesa e mi scuso ci scusiamo io e gloria perché avevano detto dopo una settimana 10 giorni dei comics sarà in vendita sarà in vendita invece a partire da oggi da oggi sul sito di simone bianchi che è www.simonebianchi.com che però non sono io il libro della raccolta dei marvel masterpieces dove troverete al cui interno troverete stampate tutte le 135 illustrazioni che ho fatto per questo progetto che erano in mostra divise a metà a new york alla galleria metropolis e metà a lucca nella chiesa di servi il libro è stampato su una carta eccezionale neanche a dirla apposta fatto soprattutto con una grafica eccezionale grazie luca valdi e c'è una piccola introduzione in cui ci sono alcuni alcuni preliminari a matita così e poi soprattutto ci sono tutte 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 quelle che volete solo i personaggi sono divisi per gruppi prima i vendicatori poi ci sono mi sembra l'x man esatto poi ci sono mi sembra ok i inumani eroi vari fra cui namor che è uno dei miei preferiti tra l'altro così eccetera eccetera beta rebuild nova quasar clock e poi tutti i cattivi che sono i miei quindi kingpin carnage e venom e così via electro che è uno dei miei preferiti anche questo e il libro devo dire anche il prezzo no non occorre lo vedete sul lo vedete sul sito sarà in vendita da oggi accattatelo 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 mo c'ho da fare in inglese so finally after quite some time because we were supposed to have this book out for sale just ten days so couple of weeks after luca we finally start selling this beautiful book you can live without from my website www.smonebianchi.com it's a collection of the whole marvel masterpieces series i did for the great upper deck company and it's 135 images as i said in italian already we have a quick selection of pencil drawings and preliminaries in the beginning and then we have all the characters and the final paintings with different group of superheroes so we start with the avengers as you can see captain american spider-man iron man the hawk thor and so on then we have all the x-men archangel cyclops emma frost ice man of course wolverine and so on and then we have the defenders the innumans various heroes like namor again female thor beta reveal quasar and so on and in the end some of my favorite which are the villains so kingpin and carnage venom electro which is still one of my favorite and so on so starting from today you can log to www.smonebianchi.com and buy as many copies as you want of this beautiful book beautiful paper really beautiful beautiful print it really translate perfectly from the painting to the paper and you can't live without just buy it thank you bye-bye